Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Musica Bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6 Una forte perturbazione atlantica si avvicina l'Italia al Mediterraneo centrale e porterà intensi temporali nelle prossime ore nel corso di questo giovedì voi a seguire dal fine settimana alta pressione in rinforzo ovunque si prospetta quindi un periodo più caldo e più stabile su buona parte d'Italia in particolar modo tra il 5 e il 9 settembre Per quanto riguarda questo giovedì comincia il mese di settembre comincia l'autunno meteorologico all'insegna del maltempo su buona parte dell'Abruzzo in particolar modo tra la tarda mattina e il pomeriggio ci aspettiamo la formazione di tanti temporali molto intensi nei settori interni specie alto sangro anche nella marsica possibilità di isolati nubi fragili forti, grandinate e anche intense raffiche di vento però buona parte dell'Abruzzo verrà coinvolta da questa perturbazione poi in serata graduale cessazione dei fenomeni le temperature in netto calo massime tra i 24 e i 27 gradi minime al di sotto dei 20 gradi un po' ovunque con questo è tutto, grazie per l'attenzione a tutti voi una buona giornata Letizia Costruzioni realizziamo i tuoi sogni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti